Era finalizzato all'acquisizione di contratti il blitz della Guardia di Finanza nelle sedi di 41 società del calcio italiano di serie A, B e minori. L'indagine della Procura di Napoli è arrivata anche a Piacenza. Le fiamme gialle hanno prelevato dallo studio dell'avvocato Franco Spezia, curatore fallimentare del Piacenza Calcio dal 2012, i contratti dei calciatori Thomas Guzman e Mattia Graffiedi del 2008. I contratti acquisiti nelle società italiane si riferiscono in particolare a rapporti, specifica una nota della Procura di Napoli, fra club e calciatori rappresentati dai procuratori sportivi Aleandro Mazzoni e Alessandro Moggi. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, in particolare le modalità di trasferimento dei calciatori e l'attività di intermediazione da parte dei relativi agenti. Le ipotesi investigative sono riciclaggio, evasione fiscale e associazione a delinquere. L'indagine denominata Calcio malato della Procura di Napoli è arrivata anche a Piacenza. Sì, è arrivata in modo molto marginale, nel senso che stamattina sono presentati due agenti della Guardia di Finanza di Piacenza su delega della Procura di Napoli, semplicemente per reperire della documentazione. Da quello che ho capito, la Procura ha avviato un'indagine per frodi fiscali, associazione a delinquere, di altri reati di questo tipo e ha mandato presso le sedi di varie società a recuperare i documenti relativi ai trasferimenti e ai contratti di alcuni calciatori che, deduco, avessero rapporti con questi soggetti, con Moggi, eccetera. Riguarda peraltro giocatori in questo caso non appartenuti al presidenza del momento del fallimento negli ultimi anni, ma risalenti nel tempo, 4-5 anni fa, perché sono Graffieri e Guzman che mi sembra fossero 2008, giù di lì. Quello che è preciso è anche che non dovrebbero neanche essere coinvolti gli organi delle altre società. In questo momento c'è un'indagine a carico di soggetti che avrebbero effettuato delle frodi fiscali, evidentemente tramite questo tipo di rapporti, però anche gli organi delle società, in questo caso quelli del Piacenza Football Club, SPA, in carica all'epoca, non hanno ricevuto nessun avviso, quindi in questo momento è solamente una raccolta di documenti. Grazie. 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 Grazie.